Pillole di teologia di Fulvio Ferrario Cari amiche e cari amici in ascolto, bentrovati per questa prima puntata del nuovo programma di Radio Beckwith, Pillole di teologia. Io sono Fulvio Ferrario, sono pastore della Chiesa Valdese e dal 2002 insegno teologia sistematica presso la Facoltà Valdese, con sede in Roma. La direzione dell'emittente ha proposto di dedicare queste prime due trasmissioni, quella di oggi e quella della prossima settimana, alla figura di un teologo del quale le Chiese e la cultura europea, mondiale anzi, ricordano quest'anno il cinquantesimo anniversario della morte. Il nome è Karl Barth, svizzero, protestante, una figura che ha segnato il Novecento e che continua a proporre stimoli alle Chiese e alla società, io direi, anche oggi. Benché Barth abbia scritto un libriccino che si intitola Cominciare dall'inizio, io vorrei cominciare dalla fine, precisamente dalla notte tra il Nove e il Dieci dicembre 1968, la sera del Nove, Karl Barth è al telefono con l'amico di una vita intera, Edward Thurnisen, e discutono di politica. Barth era appassionato, molto attivo, come vedremo in questo ambito, discutono di politica, sconsolati anche allora per le vicende del giorno, e Barth chiude la telefonata con un'espressione che potremmo approssimativamente tradurre così, un giorno regnerà il Signore. E va a letto e si sveglierà direttamente in cielo con Dio e con gli angeli, che lui auspicava suonassero Mozart, anche di questo riparleremo, spegnendosi serenamente a 82 anni. una esistenza estremamente ricca, anche per certi aspetti vista da lontano perlomeno, relativamente tranquilla. Barth è stato un pastore e poi un professore, eppure molto intrecciata con le vicende della politica, con le lotte, con le sofferenze, con il sangue che il Novecento ha visto scorrere. Barth nasce in una famiglia di pastori, di teologi, il padre anche è professore di teologia, nasce a Basilea, ma i primi anni della sua vita si svolgono a Berna, dove il padre ha la sua cattedra e a Berna cresce, svolge gli studi normali di teologia in Svizzera e poi, come era d'uso allora, in parte ancora oggi nella formazione dei pastori mittel europei, inizia a girare un po' per le università, per ascoltare voci diverse, per conoscere orientamenti tra loro anche in contrasto della teologia. Ci sono dei nomi che Barth vorrebbe incontrare, nomi che provengono da un orientamento detto liberale, cioè che si atteggia in modo piuttosto critico nei confronti della tradizione della Chiesa, nei confronti dei dogmi, un atteggiamento molto interessato alla dimensione etica, morale e alla dimensione storica, e che in nome di queste esigenze, un cristianesimo che sappia dire qualcosa di concreto per la vita delle persone e un cristianesimo che sappia riconoscere le proprie origini storiche al di là degli sviluppi che si sono accumulati nel corso dei secoli. Ecco, tutto questo è la passione della teologia liberale, a tutto questo il giovane Barth è fortemente interessato. Il padre di Barth non è molto contento che il figlio frequenti questi pericolosi indirizzi innovativi. Lo vorrebbe più arroccato, diciamo, su posizioni tradizionali, come ad esempio quelle che a Tübingen, nel sud della Germania, vengono insegnate da Adolf Schlatter, un teologo allora famosissimo, ma appunto il giovane Barth è attratto dai liberali. Due sono i nomi importanti, due grandissimi nomi, entrambi entrati e con pieno diritto nella storia della teologia. Uno sottolinea la dimensione etica, cioè un cristianesimo interessato fortemente alla dimensione morale. Il nome è Wilhelm Hermann, insegna a Marburg, una grande università tedesca, una piccola città ma un'importante università che ha tradizioni gloriose sia in ambito filosofico sia in ambito teologico e Hermann eserciterà un'influenza permanente anche quando Barth prenderà direzioni molto molto diverse. Ma il nome ancora più importante è quello del grande pontefice della teologia liberale che regna incontrastato dalla cattedra dell'Università di Berlino, Adolf von Harnack. Harnack è uno storico del cristianesimo, uno dei più grandi storici del cristianesimo che mai siano esistiti. Ha scritto su tutto, ha studiato tutto, grande conoscitore delle fonti, grande conoscitore dei metodi storico-critici che applicano i risultati della grande filologia tedesca degli stessi anni, degli stessi decenni, allo studio delle fonti cristiane. Harnack è anche un pensatore teoretico, per così dire, cioè ha anche la sua visione del cristianesimo. Il cristianesimo è una cosa estremamente semplice, è il messaggio di Gesù, quello che è venuto dopo, cioè il messaggio su Gesù, l'idea di un Gesù figlio di Dio, seconda persona della Trinità incarnatasi nel senso della Vergine Maria. Tutto questo per Harnack è fondamentalmente una speculazione nella quale il messaggio evangelico si fonde con la filosofia greca. Nella modernità, dice Harnack, bisogna tornare all'origine, bisogna trovare a questo Gesù che predica la paternità di Dio, cioè il fatto che Dio è padre di tutti, quindi che gli esseri umani sono uguali, portatori di uguali diritti, bisogna tornare all'idea di una fraternità universale come anticipazione, per così dire, terrena del Regno di Dio, al valore infinito di ogni singola anima umana. Insomma, a un cristianesimo che a suo parere è più adatto alla mentalità, al sapere, delle donne e soprattutto degli uomini, in questo caso, del fine del XIX, inizio del XX secolo. Siamo nell'epoca della belle époque, del ballo excelsior, della grande fiducia nelle magnifiche sorti e progressive di un'umanità borghese, colta e profondamente radicata nelle grandi tradizioni europee. Barth è stregato da questo grandissimo intellettuale, da questa figura veramente straordinaria, e con questa eredità se ne torna in Svizzera ed inizia il proprio pastorato. Karl Barth non era promesso, all'inizio della sua attività ecclesiale, alla carriera accademica, cioè non era uno di quei giovani che fanno l'assistente, poi l'assistente capo, e poi e poi e poi, e scrivono un libro sull'altro, fin quando non diventano professori. Lui pensava di fare il pastore. E così inizia, con un vicariato si chiamava, cioè una specie di incarico come vice-pastore, nella chiesa riformata di lingua tedesca di Ginevra, cioè in Svizzera, nella Svizzera francese, ma nella comunità tedesca, dove tra l'altro incontra una giovane che voleva studiare violino e che per lui abbandonerà anche gli studi di violino, Nelly Hoffman, più giovane di lui di diversi anni, fa con lui il corso di catechismo, diciamo così, per entrare nella comunità, e Nelly sposerà Karl Barth e gli darà cinque figli. I due si trasferiscono ben presto, nella prima vera e propria sede pastorale di Barth, nella Svizzera tedesca, in Argovia. L'Argovia è un cantone in parte agricolo, in parte industriale e minerario, e così è anche il villaggio Zaffenville, dove Barth esercita il suo pastorato. Ed è a contatto con le condizioni di vita dei lavoratori che questo giovane pastore aderisce al movimento socialista. La cosa crea un certo scandalo, non è di moda allora che i pastori siano politicamente orientati a sinistra. Barth ha numerosi contrasti anche con il gruppo dirigente della sua comunità, che come spesso accadeva nel protestantesimo di allora, aveva al suo interno parecchi imprenditori. Ma il fatto forse più importante negli anni che Barth trascorre a Zaffenville è lo scoppio della guerra. Lo scoppio della guerra, rispetto alla quale naturalmente la Svizzera è neutrale, però vede lo schierarsi dell'intero corpo accademico tedesco, compreso i teologi, a favore del Kaiser. Esce un famoso manifesto, al quale Arnach contribuisce in modo decisivo, di solidarietà dei professori tedeschi, ripeto anche di teologia, con la politica aggressiva del Kaiser. E per Barth questo fatto è un trauma. Il suo ragionamento è se la teologia tedesca, la grande tradizione accademica nel momento della crisi è in grado solo di produrre un testo di servile conformismo nei confronti di una politica aggressiva, vuol dire che tutto il progetto teologico è fallito. Non vuol dire solo che alcuni professori sono nazionalisti, vuol dire che fin dalle radici tutto è sbagliato. bisogna ricominciare da capo e Barth ricomincia dalla Bibbia, cioè dal tentativo di leggere e capire un testo importantissimo che ha sempre fatto la storia della Chiesa, cioè la lettera di Paolo ai Romani. L'aveva letta Agostino, l'aveva letta Lutero, l'aveva letta Wesley. Quando si legge l'Epistola ai Romani nella Chiesa di solito succede qualcosa di importante e Barth scrive un commentario all'Epistola ai Romani che rompe con la tradizione nella quale egli si era formato. Cioè, mentre i suoi maestri erano molto attenti all'aspetto di ricostruzione storica della situazione, Barth legge l'Epistola ai Romani un po' come Lutero, cioè un messaggio che Dio, mediante il suo apostolo, rivolge alla Chiesa e al mondo oggi. Molti reagiscono male a questo tentativo, nel senso che dicono, ma insomma, è una lettura, come oggi diremmo, fondamentalista, cioè una lettura che non utilizza gli strumenti critici, filologici che abbiamo e che crede di avere una specie di linea telefonica con Dio e con l'Apostolo Paolo per capire in modo immediato che cosa essi hanno da dire. Fatto sta che comunque questo libro presenta l'idea che Dio è critico nei confronti di questa società, che Dio non è semplicemente una specie di supervescovo che con l'acqua santa benedice il mondo com'è, ma Dio vuole un cambiamento radicale di questo mondo e punisce la Chiesa che invece di questo mondo che passa, di questo mondo conservatore e reazionario, fa parte. Secondo Barthes la teologia liberale si era ridotta a essere la cappellana di una borghesia decadente che ha mandato l'Europa a massacrarsi nella guerra e per questa ragione bisogna operare una svolta di 180 gradi e questa svolta non può che partire dalla lettura della scrittura. Il commentario di Barthes all'Epistola ai Romani abbastanza casualmente giunge in Germania, la prima edizione viene esaurita, ne viene richiesta una seconda, ma non è una seconda edizione dello stesso libro. Barthes riscrive da capo questo testo e il dibattito che il testo suscita è così significativo che tra il 1921 e il 1922 il pastore di Saffenville, che non ha un dottorato, che non ha mai insegnato all'università, che non è mai stato assistente, viene chiamato all'università di Göttingen in Germania ad insegnare la teologia calvinista, diciamo, della riforma svizzera in una roccaforte luterana. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Fulvio Ferrario dà appuntamento a voi e anche a Karl Barthes a Göttingen per la prossima puntata della nostra trasmissione Pillole di teologia.